Santiago vuole un fratellino? Eccolo accontentato. Nuovo arrivo in casa di Belen, un bellissimo cucciolo di certosino che sta già riscuotendo grande successo sui social. Ragazzi ho il piacere di presentarvi un nuovo integrante della famiglia Rodriguez, scrive Belen sulle sue pagine, lui è Stitch. Il gattino è già diventato inseparabile da Santiago, al settimo c'è l'ora che ha un amico con cui giocare in casa. E in una famiglia così non ci sono dubbi anche Stitch diventerà ben presto una star.